salve a tutti oggi sono qui per rispondere alle obiezioni più frequenti che pongono gli agenti immobiliari quando si parla di franchising immobiliare il franchising cambia il mio metodo di lavoro bene questa obiezione non ha alcun fondamento per quale motivo noi non ci inventiamo nulla di particolare il sistema di lavoro nelle varie fasi dell'attività lavorativa e quindi dal reperimento del nominativo del cliente che vende casa fino ad arrivare alla stipula del contratto preliminare le fasi del lavoro le metodologie del lavoro sono analoghe a tutti gli agenti immobiliari in italia cos'è che noi mettiamo in campo come valore aggiunto per i nostri affiliati non mettiamo in campo degli strumenti per ottimizzare al massimo le fasi della nostra attività lavorativa questo è quello che facciamo tu sei bravo hai esperienza hai solo bisogno di maggiori strumenti per poter affrontare al meglio la tua attività lavorativa e sarà proprio questo connubio questa unione di due forze la tua e la nostra che ci permetteranno di ottenere traguardi importanti